Ciao ragazzi, restate sintonizzati per le ultime notizie, grazie per i like e i commenti. Attrice di successo Eika Isin. Turan è sul set dal 2007. Classe 1992, la giovane attrice ha iniziato a recitare all'età di 15 anni interpretando un ruolo nella serie TVA Fedilen. Con la serie successiva, è ora uno degli attori di successo delle giovani generazioni. Eika Isin Turan, che ha attirato l'attenzione in molti progetti, è stata riconosciuta dalle masse dopo aver interpretato il ruolo principale nella serie TV Caragol ed è stata ammirata per la sua recitazione. Turan, che ha iniziato una nuova era nella sua vita professionale interpretando il ruolo principale nella serie TV Meriem, ha attirato l'attenzione anche con la sua serie digitale A Can Guard. Eika Isin Turan, che è anche amata per la sua serie TV Zemeri, è riuscita a dare un inizio diverso alla sua vita professionale con il personaggio di Alide, che ha interpretato nella serie TV Faye. L'ultima serie di Eika Isin Turan è stata Island Tale. Eika Isin Turan ha svolto un lavoro di grande successo nella commedia romantica con Ada Masal, iniziata come una serie estiva. Il fatto che abbia iniziato ad innamorarsi di Alp Navruz, con cui era in questa serie, fa risaltare l'attrice sui social media. Ha anche lavorato con Akin Kok nel film Senandr, girato per Netflix in estate. Il film di Murat Sarasolu è atteso con impazienza, ma la data della visione non è stata ancora determinata. I fan del giovane attore continuano a seguirlo sui social con interesse. Il ritorno sullo schermo di Eika Isin Turan con la sua nuova serie è molto atteso. Nel frattempo, l'attrice è nell'agenda dei suoi fan con i suoi post sui social media. Secondo i dati di Abba.tv, a settembre sono state condivise sui social 120.300 condivisioni. Eika Isin Turan, che ha conquistato l'ammirazione dei suoi fan per la sua recitazione oltre che per la sua bellezza, è seguita con curiosità dai suoi fan per la sua collaborazione con Alp Navruz. Sta succedendo. Grazie. 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 Grazie.